Ciao, eccoci qua. Spengo la tv che è meglio, perché in questi giorni si è parlato tanto di disdette da Zon e probabilmente da Zon sarebbe da andare a disdire semplicemente per lo spettacolo che siamo in grado di offrire anche in questo momento. Ve lo dico subito, è un post partita particolare perché non parlerò di Massimiliano Allegri, di quello ho già parlato sul numero 10. Quindi se volete sentire quello che ho da dire lato allenatore, che secondo me è una grande percentuale di colpa all'interno di questa partita, vi invito a scaricare l'app, il link è in descrizione. Nella sezione media potete andarvi a vedere il post partita di 5 minuti completamente dedicato a Massimiliano Allegri. Quindi credo che questa partita vada divisa in colpe tecnico e tattiche. Quindi quelle tattiche le abbiamo già sviscerate all'interno del post partita. Io voglio iniziare da questa cosa qui. Ve l'ho già condiviso un po' su tutti i social, questo è il minuto 35 del primo tempo di Juventus Monza. Questo è Leandro Paredes. Ve lo riguarderei il loop. Ve lo riguarderei il loop perché questo mi dà anche la dimensione di quello che è Paredes a livello umano, non a livello sportivo, non come calciatore, come uomo. Qualcuno mi ha detto, eh ma magari dentro il campo si sono detti qualcosa. Allora tu devi utilizzare quell'energia non per dare uno spintone a palla lontana al tuo avversario. Devi utilizzarla per dimostrare che sei un campione del mondo, un giocatore importante, un giocatore che guadagna 7 milioni di euro, un giocatore che è titolare in questo momento per cercare di guadagnare delle gerarchie, che è un giocatore che è in grado di poter fare la differenza in Serie A, soprattutto come una squadra come il Monza, che ha meritato, strameritato la vittoria oggi, ma che sulla carta valori completamente differenti da quelli della Juventus. E quindi dal punto di vista tattico, allenatore ha delle grandi colpe, dal punto di vista tecnico e caratteriale anche i giocatori. Non è tutta colpa di Paredes, eh? Intendiamoci. Perché Paredes ha le sue colpe, perché Gatte ha le sue colpe, perché Kostic ha le sue colpe, perché Danilo ha le sue colpe, perché Bremer ha le sue colpe, perché Di Maria ha le sue colpe, Rabiot ha le sue colpe, Kane ha le sue colpe, mi vengono in mente altri che sono partiti titolari. Io ho visto un primo tempo in cui c'era solo Fagioli che cercava di tenere a galla la baracca e tantissimi errori anche banali. Il passaggio sbagliato, lo stop sbagliato, la lettura sbagliata, la dormita difensiva, la respinta fatta male, il non voler andare ad accorciare sui calciatori. E in più ci aggiungiamo all'appello quello che abbiamo visto di Paredes, che è veramente secondo me la resa dei conti definiti. come si dice, il volersi arrendere definitivamente. Oggi ho visto dei grossi passi indietro nella Juventus, non so se è per la sentenza, non so se è per la situazione, non lo so, non ho ne ho idea, ma dei grossi passi indietro a livello mentale nella Juventus che oggi aveva vincere. C'era tanto da dire, tu hai già perso dal Monza in Serie A, all'andata, oggi avevi vincere. nel giorno in cui ritornano tra i convocati sia Pogba che Vlaovic, e quindi vai ad avere una rosa quanto più vicino possibile dell'essere completa, in una giornata in cui i tifosi tornano a essere veramente tifosi, a creare quell'agglomerato di cui parlava ieri Allegri, quel tutt'uno, quel blocco di marmo granitico di stadio pieno, sold out, tifosi che cantavano, curva che cantava, invece no, nemmeno quella soddisfazione dei tifosi, nemmeno quella soddisfazione, quell'orgoglio personale da parte dei calciatori e del tecnico nel dimostrare che, perché poi magari quei 15 punti te li tolgono, magari no, magari sì, magari te ne danno altri per gli stipendi, magari no, magari sì, ma nemmeno la voglia di dimostrare che la sconfitta dell'andata del Monza era stata una coincidenza, era stato il momento negativo e che il momento negativo era ormai alle spalle. Io sono convinto che questa stangata, questi punti di penalizzazione siano in grado di uccidere un elefante, perché 15 punti di penalizzazione fanno male, fanno malissimo ed è una delle cose che mi dà più fastidio averla avuto in mezzo al campionato, questa sentenza. Però c'è da dire una cosa, chi allegri e i calciatori, quindi il gruppo squadra, è innocente, non c'entra niente, è innocente, è innocente, non hanno colpe, se ci sono stati errori, se questi errori sono stati confermati o verranno confermati come illeciti, non hanno colpe, così come non hanno colpe i tifosi. ma oggi il gruppo squadra ha delle grandi colpe, è il tifoso no, ancora una volta no, è il tifoso che corre allo stadio per la Juve, magari nonostante i prezzi particolarmente alti, è il tifoso che corre allo stadio per la Juve, magari nonostante la situazione di classifica non opportuna, eventualmente anche senza la penalizzazione, è il tifoso che corre allo stadio per la Juve per dare supporto a questi ragazzi che non hanno colpe se ci sono stati errori da parte dei dirigenti. Però poi in campo allenatori e giocatori devono assumersi le responsabilità e oggi questa cosa non è stata fatta per le motivazioni che ho spiegato sul video di numero 10 e perché oggi mi è sembrato davvero di vedere dei giocatori che non avevano la volontà o la forza forse, forse proprio per via di questa situazione di portare a casa questa partita. Però visto un passo indietro atomico a livello mentale, visto un passo indietro atomico a livello di atteggiamento, visto un passo indietro atomico a livello di concentrazione e io non escludo che possa essere per via di questa sentenza. Però bisogna conviverci con questa situazione perché questo è. E attenzione che passare dal i giocatori non hanno colpa l'allenatore non ha colpa i tifosi non hanno colpa ci riesca veramente di andare a complicare la seconda parte di stagione dove è ancora tutto aperto e giovedì c'è una partita importantissima un quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio e dove c'è anche ancora una competizione europea e dove bisogna fare punti in campionato perché se poi ti conferma la penalizzazione e te ne danno altri lato stipendi se decidono di darti una pena afflittiva per quanto riguarda la permanenza in Serie A rischi di non salvarti nemmeno sul campo perché bisogna conviverci anche se si è innocenti con questa situazione e bisogna comunque dare il meglio di noi stessi all'interno della partita e delle partite del filotto di partite perché il tifoso è depresso il tifoso è depresso in questo momento il tifoso della Juventus si sta facendo delle domande a cosa mi aggrappo qual è la mia forza adesso cosa voglio il tifoso della Juventus si aggrappa all'idea di Juventus non al dirigente non al giocatore non all'allenatore alla maglia al colore alla fede e questa voglia questo amore nei confronti della Juventus intesa come club come squadra come storia beh deve essere rispettata anche da chi le indossa questa maglia che non ha colpe e sicuramente si sentirà danneggiato derubato deturpato di tutto quello che aveva raccolto con sudore e sacrificio ma è ora di mettersela via alla svelta alla svelta perché il Monza l'hai beccato tre volte quest'anno tre volte hai preso quattro gol in tre partite dal Monza due sconfitte l'hai eliminata in Coppa Italia e hai fatto fatica e hai comunque fatto fatica ma lo sai che puoi fare delle partite di un certo tipo e attenzione ne dico un'altra perché questa partita dove nelle ultime tre in campionato hai fatto un punto Napoli Atalanta e Monza un punto un punto e hai preso cinque tre otto due dieci gol in tre partite non si può fare questa montagna russa di emozione non si può non è consentito perché la partita contro l'Atalanta si prepara da sé la giochi in un certo ritmo una certa intensità e anche fresca nella mente la penalizzazione è passata una settimana e i giocatori che sono scesi in campo con quell'atteggiamento con l'Atalanta e quelli col Monza sembravano due cose completamente diverse perché nel post partita con l'Atalanta sono stato lucido e chiaro e vi dicevo per me è un sogno immaginare che d'ora in avanti si continuerà con questa mentalità e dico sogno proprio perché non ci credo e quindi esprimo un desiderio questo desiderio è già stato bruciato è già stato completamente distrutto perché in questa situazione difficile serve davvero creare quel blocco di cui parlava ieri Allegri è del primo non aver mantenuto la promessa perché i tifosi hanno risposto presente i tifosi c'erano i tifosi erano lì pronti a soffrire anche in questo momento e quindi lo so che il gruppo squadra è innocente lo so che Allegri è innocente lo so che il tifoso è innocente però stiamo soffrendo tutti e vediamo di non far soffrire ancora di più il tifoso di quanto non si meriti è stato un po' di più